e balla a tutti alcuna bacata ragazzi bentornati in una nuova ciccio panzata delle mie ma se vado qua muoio quante persone minchia zero per ora vieni qua qua dove vai ma c'è lì no mare mio vai di là con lo scatto e cinque figli ma lo hai scelto tutto di me certo sì cosa scrivere sì perché posso io farlo perché non ce l'ho la camera cosa è fatto che sei pulito oh dai dai dammi il telefono dio santo mi sono rotto una mano oh che cazzo ne so fino a quando non gli muore la madre fuori l'olio vediamo dove minchia questo gioca pronto c'è c'è il mio amico hotman lo chiamo così sono io come sei te impossibile che sei te lui non è una voce così sei troppo grande per essere lui non crederci comunque giochi beh si gioco secondo te lui no no sento hotman dai pa oh figlio di puttana ho sentito hai visto ora hotman che rideva guarda come non risponde ah no stava sull'am ha una jam hotman ma qua cosa faccio si muoio e se continuo a chiamare oh passami hotman che l'ho sentito prima che rideva dai non rompere i coglioni te beh allora fatti vedere che sei te dai vai vai fatti vedere tanto lo riconosco dai fatti vedere fatti vedere rispondi si fatti vedere nella videochiamata che ti piace ah come mai hai rifiutato la richiesta ti fai paura eh si hai disattivato il microfono fammi parlare con hotman l'ho incoglionito oh dai sto scherzando però fammi parlare con hotman dai please oh madonna gli devo dire una roba ma allora adesso ho fatto entrare uno in prova che sto facendo un bacio di provini degli hotman beh ma di lì a che ora gioca hotman che io sono in live eh non sai te tanto lo so che non sei eh allora io cosa mi chiamo eh eh hai disattivato il microfono mongolo lo sappiamo chi sei dai cugino cugino non lo so chi cazzo sei lo sa lo sa che cazzo sei ma non mi interessa chi cazzo sei mi devi passare open dai madonna beh dì gli hotman di non fare il bimbo ti regalo 10 euro se mi fosse il vero hotman da paypal beh allora perchè quando ha detto due come mi chiamo io ti hai disattivato il microfono strano eh strano non siamo mica mongoloidi dai basta me lo porco dio allora come mi chiamo io allora come mi chiamo io l'ha disattivato oh ascemo non fare il mongoloide con me perchè hai disattivato di nuovo il microfono non fare il mongolo allora come mi chiamo io allora come mi chiamo sulla play dai come mi chiamo è inutile che dici così a che ora come mi chiamo sulla play dai come mi chiamo guarda 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 mamma mia che mongoloide ma che fare io non mi chiamo nn smoker io lui beh comunque è scemo è inutile che disattivi il microfono sempre lo sappiamo che non sei te eh non lo so se è un suo amico o suo cugino che cazzo ne so allora fatti vedere se sei lui tanto lo conosco di faccia perchè non ti sai vedere fatti vedere eh wow è vero che disattiva il microfono ho capito allora o ci dici che se non sei te va bene ok però digli a hotman a chi ora gioca e quando viene a casa a giocare che sono in live e vuole venire a vedere o digli digli che se non risponde il vero hotman non siamo più i suoi amici ok vai o abbiamo detto tutti e due che se non risponde il vero hotman non siamo più i suoi amici quindi bravo adesso vorrai il live sicuro come atti bravo 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 oh bella bro se vuoi giocare scrivi beh ho capito che sei outman quindi lo ha matato anche a le dar anche a me dar anche a me dar ho capito che mi spara no posso rispondere oh dai basta chiamarlo ora viene oh parla il vero dai che mi sono rotto già il cazzo bimbo minchia fai parlare il vero si stai prendendo la minchia quella che ti piace tanto guarda ora disattiva il microfono no bomba rollo scuro e ben scolato allora bomba rollo beh comunque non è quella lui da ora che giochi ha chiuso lui perché chiude come mai che giochi ciascuna play o dai passami il vero che già mi sono rotto il cazzo che giochi ciascuna play no anche poi guys e gli altri for world gen non ce l'ha lui e sveglia o handicappato non dirmi che ti deve iniziare a insultare passami il vero che mi sto già incazzando allora se sei te porco dio ci ho detto di andare a fare un culo ma adesso li dico che livello sono su reno ciao cristian vuoi giocare se vuoi giocare dimmi il tuo dd che ti vanno la testa oh che livello sono ok bro dimmi il tuo dd che ti vanno la testa se vuoi giocare cristian sbagliato a chi ah no no beh comunque bro passami il vero asmen se no ti devi iniziare a insultare dove vai dai oh mamma oh non ti voglio iniziare ad insultare passami il vero asmen non si usa il telefono degli altri ma non è il telefono degli altri è il coglione di osmen che deve fare lo scherzo perchè non ce la può fare senza fare scherzi di merda perchè mi rompe le palle non lo so allora non gli ho detto di ripassarmi un secondo no ah certo vedi come si chiama mio sorello vabbè chi ha questa vuole giocare questo qui mi ha scritto non devi entratellare ma non è vero non esiste ma non hai messo la c si che l'ho messa ah non trovo scherzi com'è che l'hai messo qua ah lui l'ha messo manu bella bro vuoi giocare certo bro puoi provino dimmi il tuo dd che ti mando la richiesta no bravo no guarda che ha scritto solo solo proprio aspetta bro ehm vabbè parla no aspetta 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 cazzo 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 un secondo bro non te lo posso mandare che stava aiutando dammi due minuti scusa aspetta che c'è uno non te ne vado vabbè bro ora te lo mando aspetta che abbandono stai live oh stai gi hai lasciato like e ti sei iscritto bro oh hai rotto il cazzo bimbo minchia che non sai il vero hotman oh mi fa silvere hotman o niente oh ti blocco o se no te ne vado a fare ah allora passami il cazzo di vero hotman l'ho sentito ridere ok ok brutto e ho mandato la richiesta scusa oh non rompere la minchia bimbo minchia oh disculpa la mamma bloccalo bloccalo su whatsapp bloccalo su whatsapp tranquillo ma sei il suo amico bloccalo su whatsapp te eh fra io te l'ho mandata me l'hai accettata me l'ho accettata bro non so sei te ti sto invitando vedi sei te sei te sei te ma sei il suo amico vediamo si bro sei te questo eccoti ma sei il suo amico hai le cuffie bro hai le cuffie hai le cuffie aspetta bro hai le cuffie aspetta ma che cazzo si bro mi senti?! ma che cazzo ooooh madonna bro mi... ah sono incontri perchè bro mi senti? si bro ok vuoi fare il provino no? E comunque se lo spento e si leva Eh? Se lo spento e si leva Va bene, va bene, tranquillo Ehi Elena Non ti interessa Vado Eh, la faccia mia o la faccia? Eh, tutte e due, tutte e due È lui È lui, Cristian Sei te Cristian? Eh? Ma sei te CTS Cristian? Salto felice? No Ah, è vero Scusa bro Come ti chiami CTS Cristian? Non lo riscrivi per favore Però sai live Perché prima non mi ha dato giusto Cioè mi diceva che era sbagliato il nome Quello di Epic bro Quello di Epic non è quello di Play Cristian Ma cosa iniziamo? Ehm, quale vuoi? Ehm, se è arrivata prima Se non mi scrivi come ti... come... Qual è la tua idea? Epic, Cristian Non ti posso non dare la richiesta A PlayStation la mando solo a quelli che donano Cioè a quelli non che donano Quelli che supportano tanto il canale Quello devono sopportare solo per una settimana Quindi lo mando anche sulla Play Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta bro Devo scrivere il nome S grande N grande Trattino basso Poi C Adesso è mica poi R I S T I 4 N Bro, non sprendere niente N Trattino in mezzo Trattino basso Trattino in mezzo Il libro non va Guarda Ah, ora è andato Scusa Allora l'avevo scritto male prima io Scusami, scusami No, te l'avevi scritto male prima Aspetta che invito anche lui Sì, vabbè Aspettate che invito anche lui No, aspettate Eh? Oh, scusa Dele Eccolo qua Ecco Adesso possiamo iniziare a faiare Sì Vabbè Sì Vabbè Però Dele messe per mandare una richiesta Eh, bro Scusami Avevo scritto male Vabbè Cosa vuoi fare? Il problema Vuoi giocare Io non posso giocare Ah, ok Va bene Io spazio di finito No, va bene, va bene Giocare Tanto scatta però Faccio l'accento di stradino a lui Pronto Pronto Scusami Guardi Il suo Ma chi è che la è in casa? Io Ok Ti consiglio di prendere la classe Eh Eh Tanto per la prossima volta La valla stessa Che muore Beh, se vuoi io mi muto Ti lascio concentrare Vedi te Eh? No, non ti dà niente Mutami te Se ti dà fastidio Va bene Eh Sì 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 Hai sentito cosa ti ha detto? No Lo creiamo noi con le annelli La scritta annelli Hai sentito cosa ti ha detto? No Beh Quello Non è capitato Non è capitato Non è capitato Mi muovo un secondo Vabbè, le pregasse Cioè, per te A me non ne poteva fare niente Non è capitato Non è capitato Beh, però ora non ho da quello che ti ha dato Perché sei un vero amico Un vero amico Questa è capitato 파 untuk Masi Siamo Sembra La Questa Nadia Poi Questa è grande se una parolaccia dimmela c'è un sacco le porte non devo dire quale farlo però non devi dare il rischio cos'è che figli devi dare? è una scena ma non per me poi li prendi eh certo lui in realtà sai tu che mi ha detto una volta quando ero incazzato con te lui mi aveva scelto il tuo amico per percorrere le robe allora la cacciatrice poi non era più amica e rimanevamo solo io, ho capito? quando avevamo l'equilibrio nooo ma entri da tutte le parti anche nel buco del culo ah non sei morto devo fargli il provino comunque però si arriva ai 10 e poi giochiamo con chris e nebu poi il build fate la facciamo dopo magari dopo facciamo anche la friga va bene eh chris eeeh eh aspetta no si dobbiamo così ah non mi sembra un foglio non è possibile ma bravi spero l'ho spaventato tra gli ordini quindi è super bella è super bella è super bella vado che cos'è è super bella no ma tanto non mi frega un tubo se va non mi frega un tubo no non mi frega un tubo se vuoi te le regalo proprio non me ne faccio niente anche il box e ti posso regalare quello lì se le vuoi prendetele però metti in ordine cosa? te le regalo cosa? le carte? no poi si si tanto efficienza si si cos'è che me hai? perchè mi hai scritto bro? me lo posso portare su si bro perché mi hai scritto? falzo felice ci sei? no non mi pare no non mi pare non mi pare falzo felice ci sei? no perchè la fai dopo? no mi sei riscaldato? a bene no a bene bro se mi sei riscaldato va bene no no stai siamo ancora un po' in creativo allora torno al centro beh andiamo in beer fight ma chi è l'altro? ma chi è l'altro? scusa ma dai che guarda scusate ma chi è l'altro? ah iperbora di chi è l'amico? boh salto felice sei tuo amico o spara? sei aspetta eeeh iperbora vieni qua giù vieni giù sei un amico di qualcuno iper se sei un amico di qualcuno iper se sei un amico di qualcuno balla iper sennò sono costretto ad espellerti iper iper se non mi dici chi sei io ti espello aspettate che mi muta aspettate che mi muta o e per sen senti che parlo quando ci sento ma io sento l'ora cosa qua no perché io ho messo su audio della chat se no si bug sento piano la mia plan perché così c'è un bug e così o magari sono per le cusche c'è un bug non succede niente senti solo quando spari non si sente il volum cosa c'entra basta che abbassi tutto il volum che sei da solo tanto non sono le tente quando c'è uno sparo come quello sì ma raga dobbiamo aiutare ma ah sì dobbiamo aiutare scusatemi dobbiamo aiutare vabbè che mi sa che i comandi mi ritengo lo sai come devo cambiare che dice c'è notte comunque mi piacciono grazie vostri non tecnico per fermato iscritti è proprio e ti dico solo che ti serve in team in team e ce l'ho dopo te lo spiegherò va bene ma io guarda che ho iniziato la settimana ascolta fare live ho fatto il mio record di speck 13 anche molto buono perché figlio perché un aspetta live sempre allora ti dico io te lo consiglio questo 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 consiglio perché si può io neanche neanche da un anno che sto facendo live e già è da un mese che faccio live foto di crema già non ho capito scusa da un mese che faccio la luce ciò mesi e già c'erano trento iscritti ma inizio e il mese da una settimana allora ti dicono il primo mesi senza cosa non usate mai questa tecnica quindi sono stati iscritti poi cosa da questa tecnica mi ho fatto 20 iscritti un mese mi faccio il reddoppiato ma io ne ho fatto i 5 in una settimana diciamo che è buono i preti consigli di metterlo nel primo non così come le messe te quante metterlo il primo tipo di metterlo in tv un matico cambiare il nome del canale si è come si fa e me lo dici nel telefono non lo so se non avrai un pc della plexi e come no ah no no vabbè diventare sul sito di un'altra da pensi può fare perché sulla placenta internet quindi c'è il brother si bruise ho conto che subito serve su youtube poi con l'edito account non mi ricordo con il segno in posto aveva un po farlo allora doveva rimanere sempre così dopo un minuto dopo sta fai perché non mi ha inclinato una roba che sono anche più discorso e col pc però voglia con il mio fra ai discorso si tratta il pc portatile sono con un aspetto in due fusti a uno a ricordare di là l'altra di qua perché potrei essere quelle super comodissima che fatta che mi muto non voglio dire una roba la città di prima per la libera di là quindi si avrai un'altra di fulgure non lo so tempo tocco 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 so che i ciri sono comunque se vuoi interacenti mentre mentre di giace molto no no ma come si chiama riafello ma ci passare come nome invece noi ci chiamiamo annale abbiamo cinque membri del team allora penso allora io ho fatto il video di cui dicevo che io sì il mio canale di sport solo che il pc cioè in molte condizioni che la perche il giorno non sarlo non trovo lo schermo tutto rotto ecco quindi pensate non è il non mi ricordo la password dei miei con un salto perché c'è tremenda il primo la password a banchi e per se siamo nella casa non dico che c'è scelta il giorno di un bacio 1 3 3 3 3 3 3 aspetta guarda la tua cosa e di noi abbiamo cambiato il passo 3 molto più veloce aspetta che provo a fare la cosa invisibile ora è una faccetta ma non riesco con con il touch per rispettare l'acqua di invisibili anche compriamo guarda la guarda prendo la prima è una perigia più mai giocato la nostra stiera certo no perché è annullato bro guarda mi aspetta mi devo riabituare fatto non lo faccio da bot bocca due coglioni non lo faccio da bocca figa porco giga sforzo male ma io prima lo facevo esimo adesso non so perché non lo riesco magari con questo sì fermo no non riesco mi devo riabituarmi vai sali 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 da sopra vabbè non riesco mi fa capo male braccio oggi non so perché oggi mi fa capo male braccio provare a gesù mi vuole male sali qua sali qua mi vieni qua aperto 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 ma facendo poi da me secondo di me e qua di qualunque ecco ok ma ok ok non è ok 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 sino per farlo cosa non vede che ripresiva questo per farlo ma io ripresce perché sulla maestrasiera della nostra sera del merito devo farlo senza ripresinare così è il torrento ma se vuoi ti mando gli scrigni tutti mori invisibili non tanto però si dicevoli sì perché sembra stracciata non tanto ma che sei tranquilla che le posso cancellare la live io poi magari la cancello se vuoi se vuoi che le facciamo no sono cadute però ma perché no tanto il mio fratello vuole che le faccio tutto il mio se no in che senso maggiori te non fai vedere tanto poi te ne hai le cuffie poi anche poi dico che magari basta che ti muti nel porti nella così deve mutare che proprio non ti devo mutare neanche io basta che metto che non metti non consentire audio sento però sarà truffa fronte nel portare questo perché l'ora è che faccia di affari un po di amico pevrino sta facendo un calcio lo so lui c'è anche testi con molto rotto quindi si tassi che è se non ho fatto scomodi per l'ucollo di una fra bravo e per i primi matti non riesco a guardare oggi così tra controllo calmo oh sei bravo oh continua così che la fa invisibile beh ma qui si o bro sta che prova attaccare ma se passi a per farti vedere come sono sacco il gensi che le tuffi ok dopo due minuti mi sono andato quell'altro oh 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 ok 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 Sì bravo hai? guarda il mio piccone papà papà non mi stai vedendo? mi stai vedendo il mio piccone? Grazie a tutti 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 Buono 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 vista quello di harley mancano come si sta muovendo già riesce la cosa sembra che c'è dai bro andiamo a farci delle due please please due va bene vai abbandono se non scrivi il live no se non senti scrivi il live scrivi il live andiamo a due non c'è nessuno dice mai lei non sta giocando e il nome bro ma vattene a fare il culo scusa abbandona dopo che gioca se ne fosse c'è d'amore il nome è questo il nome è quello vabbè guardiamo l'ultimo video guardo i video suoi guarda ma anche i dati viene sempre quello si lo so aspetta vai sempre questi due è vero ma anche questi così ma non so sarà un bug di youtube ma stanno fino a vita l'estate sono l'ho recitata ma non non ce l'hanno a scuola è manco il lavoro si è vero aspetta ma tu fai un video con monitor il tuo arco di iac vorrei se c'è qualcuno nel live si ma lì ma lì c'è su chiama i coglioni stai pensando ma chiudiamola live il telefono non ma 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 no 4 ma 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 come cresco discreeti non non ma 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 come i commenti vocali no si sono figo fra cosa? è tipo la voce di siri è tipo mi chiamate la richiesta si ma è in inglese vabbè dopo lo faccio guarda che bello quello della vittoria è troppo figo succede che io prendo un coltello e te lo inficco sopra il culo eh no perchè ti metto il coltello sopra il culo e poi sono felice yeee faccio yeee che bello allora perchè me l'hai regalata a fare ti metto il culo e faccio mi metto? ma no perchè mi ha missato aveva il cavaliere nero fa Non c'entra, mi ha vissato, ti giuro, è per quello, si uccideva, si vedeva, non gli avrà sparato il bomba sicuro, un po' scarsolo era la match, però vabbè. Dov'è? Ha caduto. Mi prego. Via, come si secolla! Accederà! Muovi in su! Scappa! Sì, però puoi provino, dimilli i titi fino alla richiesta. Dimmi i tuoi chiedi che io ti ne vedo la richiesta. Madonna, come si è scappato da qui? Oh, li pusho, li pusho alla casa, quando si muore. Non, non mi resta qua. Ah, allora, il mio B è NL, maiuscolo staccato, C, R, A, Z, Y. Aspetta che te lo scrivo in chat, bro. Ora te lo scrivo in chat. No, aspetta. Com'è qua? No. Aspetta un secondo, bro. Sto cercando come si scrive in chat. Te lo scrivo, eh. Guarda che adesso appare sullo schermo, eh. Vedi, è apparsa sullo schermo. Mandami. Che... ho tanto abbandono. Ma... Ma... Cosa? No. Bro. Anno alla crisi. Non riesco a fartelo vedere. Deve vedere... Dai. Che è il LTE di Fox. Che è il LTE di Fox? Che è il LTE di Fox? Ha abbandonato la live. Lo so. Infatti io lo devo cambiare teaser. Ma quanti spettò? Ah, qua è... Ah, no. Questa qua era l'ultima live che ho fatto. 98 spett. Beh, allora cos'è? Se sei appena da salivarlo qui, c'è chi vuoi prenderti? Questa è il livello 13. Ma ci vedi? Sì. No, no, là è 13. È 13. 15. 13. Vai a vedere cosa c'è dopo la copertura. Prima della copertura. Aspetta. Non cambi il colore della sfonda. 15. Ah, bro bro bro, ci sei? Eh, bro, io te l'avevo detto. Aspetta, scusami, bro. Aspetta che intanto lo scrivo. Appare sullo schermo, bro. Però non è che te ne puoi andare e poi rivenire dicendo... Di nuovo ho cambiato, bro. Devi stare in live. Se no... Se no, bro, poi io non te lo dico più. È l'ultima volta. L'ho messo davanti. Vai, bro. È nello schermo, lo vedi? TNL crazy, così. Due. Bella, bro. Scrivi in chat se vuoi fare il provino o vuoi giocare con me. Ti invio la richiesta e ti invito nel gruppo. Bu, allora bro, non lo so, a me mi dice zero, aspetta. Vabbè, bro, te scrivi. Te mandami la richiesta che io tanto ho abbandonato. che te l'accetto e... E chi no? Allora, quante ore? È un'ora. No, un'ora no. Un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Dai, bro, mangi la richiesta. E... e... Almeno che... C'è almeno... Ce la finisci? È un'ottima. Te l'accetto. E... 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 Tranquillo. Quella del collegio. Che bello è. Beh, allora, bro, te dimmi il tuo. Se no non ci posso fare niente. Ma perché si manda tutto? Si lagga tutto. Non lo so. Ma perché questo dov'è me? Ti piace? È bruttissimo. No, la verità. Vabbè. Dai, leva, leva, leva. Va bene. Poi pulisci se sporchi a terra. Allora, bro, se mi riesci il tuo ID, diamo questo appartamento, se non lo trovi. Quello mio è il ID. Epic. Aspetta che arrivo, bro. Aspetta che arrivo. 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 Aspetta che arrivo.